Enesima puntata Caso Soget, enesimo protocollo. Sì, noi continuiamo, continuiamo a chiedere, continuiamo a volere, pretendere della documentazione per poter dimostrare ai cittadini di Teramo se quello che si è verificato sul nostro territorio era legittimo oppure no. Vogliamo chiarire alcuni aspetti dubitativi, soprattutto in riferimento alle somme aggiuntive che noi troviamo sulle cartelle che sono state inviate e vorremmo anche sapere il numero di queste cartelle perché vedete, sembrerebbe che anche sulle cartelle non recuperate vi siano delle somme che il Comune debba riconoscere, in questo caso la Soget, e quindi questo aspetto a mio avviso va chiarito, va visto, va controllato e soprattutto vedere se la Soget controlla e poi manda queste cartelle a chi non ha pagato oppure se manda queste cartelle a tutti e poi siamo noi che andiamo a giustificare se abbiamo pagato oppure no. Quindi il controllo lo fa il cittadino andando lì e mostrando le ricevute. Questa è una cosa intollerabile, quindi sono tutte richieste lecite fatte dal Presidente della Commissione Vigilanza e Garanzia. Pretendo di avere tutti questi dati e li metterò a disposizione dei cittadini. Come vanno le altre risposte sui suoi question time da parte del Sindaco e dei dirigenti, anche della Secretaria Comunale? Mai avuto nulla, questo mi fa preoccupare ancora di più perché quando un'amministrazione non è all'altezza di poter rispondere a un consigliere comunale e quindi ai cittadini, la trasparenza amministrativa in questo Comune da alcuni mesi non c'è più, anzi da alcuni anni.